Venite a trovarci nel nostro showroom, Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto. Concluso il campionato di Serie D da tre settimane, la società della Cavese fa le sue valutazioni in vista della prossima annata, che possa essere Serie D o addirittura Serie C tramite ripescaggio, cercherà di accontentare la propria tifoseria, creando una rosa che possa lottare con grinta per fare bene. Nel maggio 2019 ricorrerà il centenario della fondazione del club Aquilotto, quindi l'obiettivo principale sarebbe quello di potersi trovare tra i professionisti. Giuseppe Pavone, ufficializzato già come consulente della Cavese, punterà su un allenatore di sua fiducia. Ed ecco quali sono i nomi che circolano al momento. In molti della tifoseria auspicherebbero la prosecuzione di un ciclo con il mister che nell'ultimo campionato ha lavorato in modo egregio, quindi una riconferma di Leonardo Bitetto, il quale però piace molto all'ambizioso, audace Cerignola. Ma il secondo nome caldo al momento è per la Cavese quello di Giacomo Modica, un tecnico che piace a diversi club tra Serie D e Serie C. In buona sostanza, la Cavese versione 2018-2019 ripartirebbe e ripartirà da un allenatore che pratica il sistema di gioco 4-3-3, proprio nel segno della continuità con le annate scorse. E alcuni interpreti del campionato appena finito potrebbero rimanere, anche se ci sono elementi del calibro di Massimo, Manzo, Oggiano e Martiniello che hanno richieste da club di Serie D e anche di categoria superiore. Staremo a vedere se ci saranno anche i giusti ricambi in caso di qualche partenza eccellente.